wow ma com'è arido qui oh ho tanto caldo e anche sete avrei dovuto conservare dell'acqua ma mi stanno schizzando la faccia ti ho svegliata mi hai appena schizzata con la coca beh se questa ti è piaciuta ecco a te la sfida dei cento strati accidenti ci sono cascata va pure no no insisto vai tu per prima ok bene vediamo cos'ho oh una coca e una cannuccia fammela aprire wow impressionante lo so ehi questa cannuccia mi ha dato un'idea se la piego in questo modo si ha funzionato occhiali di cannuccia proviamoli e vediamo se funzionano sì e vedo la coca cola che scorre che figo ok adesso apro il mio wow e questo cos'è che cos'hai penso sia una cannuccia gigante vediamo cosa c'è da bere oh niente non guardare me io non so nulla ehi qualcosa la sta tirando adoro la coca cola ma dove è andata wow non sono mai stata qui che bel posto mi servirebbe una vacanza wow aspetta un attimo selfie oh che eleganza sarà di qualche riccone ehi sono alla fine un bicchiere gigante di coca ah rinfrescante so io cosa fare mi ci infilerò dentro ma guarda che figo c'è un'infinità di coca cola uno due tre wow 100 pringles è un vero sogno riuscirò a mangiarle tutte oh ma io ne ho solo una vorrei averne tante anche io sì tutte mie wow le stai divorando ma sono in paradiso sì credo di sì sono la regina delle pringles questo è il vestiario tipico dei reali pringles con i gioielli della corona pringles grazie grazie a tutti aspetta da dove arriva quella pringol rotta oh no si stanno rompendo tutte i miei vestiti ehi ma stai bene hai le allucinazioni cos'è successo ero regina delle pringles sì ti ho sentito dire una cosa del genere beh sempre meglio che essere una papera ok ah ho un'idea spettacolare ma continua a scappare via dove accidenti va si sta così bene fuori e ora sfruttiamo questo pane ecco piccole papere mangiate ho preso questo pane solo per voi oh principino tu sei il mio preferito apriamoli insieme cosa? dov'è il cibo? ehi cibo in consegna chi vuole le ciambelle? oh wow sembrano buonissime sì e non dimenticatevi questi bene uno due tre via alla salute ok io vado uffa mancato ah forse questa volta sì ci sono riuscita uh e di nuovo e dai perché io non ci riesco ed ecco un'altra evviva due in uno sì 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 che ne pensi? ma che accidenti ha fatto una torre di ciambelle sì a quanto pare sono portata e ora il premio si mangia beh almeno io posso mangiarne una avrei voluto averne un'intera torre però wow è impressionante hai vinto tu oh non sapevo ci fosse un premio inizio io questa volta bene una montagna intera di patatine fritte adesso vi divoro patatine un'altra e un'altra ancora oh ma quante e guardi tu hai avuto una torre di ciambelle hai ragione vediamo cos'ho io proprio come immaginavo una sola patatina aspetta ho un'idea forchetta e coltello voi mi aiuterete adesso taglierò la patatina e via nella senape deliziosa un'altra da immergere troppo buona e c'è anche la salsa barbecue non posso scordarmela beh guarda cosa posso farci io cos'è che stai facendo non si vede sto facendo una torre di patatine le metto due alla volta ah guarda com'è alta non ci credo che figa è così bella la mia migliore costruzione dovrebbe essere tra le meraviglie del mondo ecco ti faccio una foto grazie sì l'ho fatta con le mie mani hai vinto il premio come architetto dell'anno per la torre più alta al mondo un sogno divenuto realtà grazie sono fiera di me con cosa vorresti costruire una torre facci sapere nei commenti e non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo iscriverti al nostro canale per ii